Un'ottima partenza dell'Italia, poi contro una Bulgaria molto, molto chiusa abbiamo prodotto un po'. Cosa ci è mancato stasera? No, beh, ci è mancato di essere un po' più precisi in zona gol, questo. Un punto di vista invece della posizione sempre appensiva, cercando luce tra due linee molto strette, potevamo attaccare di più l'area con due giocatori? Ma l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto nel primo tempo tante volte con Chiesa, con Lorenzo, nel secondo tempo con Berardi, siamo stati un po' imprecisi, sono quelle partite che anche se giochi, penso, anche 30 minuti a palla a me, probabilmente. Insomma loro hanno difeso bene, noi abbiamo cercato di fare il massimo per vincere la fine alla fine, hanno fatto un'azione di contropiede, questo è il calcio. Stavolta non è una questione di condizione di settembre come altre volte, perché sembravamo brillanti. No, stavamo bene su questo, no, no, stavamo bene, dovevamo essere assolutamente più precisi, credo. Il gol l'abbiamo preso in ripartenza ed è una rarissima occasione in cui prendiamo un gol così, c'è mancata la lucidità magari di far fallo lì? Sì, poteva far fallo, ma eravamo anche abbastanza, non eravamo messi così male anche se abbiamo preso la ripartenza, ma comunque eravamo a tre contro tre, quindi casualità. Questo risultato rende ancora più importante la partita di domenica o alla fine cambia volto? No, beh, se avessimo vinto sarebbe stato meglio chiaramente, però domenica chiaramente è una partita importante, dovremmo vincere. Grazie, grazie Roberto.